5 esercizi di mobilità articolare per anche il bacino. Primo esercizio. La ginocchia in abduzione, scivolamento del corpo. Bene, la posizione ferma, apro, apro. La ginocchio, apertura, e ritorno. E ritorno. Volendo, possiamo anche fare un esercizio di allungamento. Bene, seduti. Se avete un peso, altrimenti anche debuttibile. Apro, e chiudo. Apro, e chiudo. Adduzioni, e abduzioni. Indotte con il peso. 3, 2, 1, benissimo. In piedi, cosa squat? Ripoff. O, e, sudare. In piedi, cosa sono scontro? No, è un sottotitolo.